Sopraluogo nel Montiferro e nella Planargia devastate all'incendio di fine luglio che ha percorso in pochi giorni oltre 20.000 ettari di territorio distruggendo aziende agricole, zootecniche e artigianali ma soprattutto cancellando uno dei polmoni verdi dell'isola e questo è uno dei punti all'ordine del giorno della visita istituzionale in Sardegna dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati preseduta da Filippo Gallinella. I parlamentari stamattina sono stati ricevuti in Consiglio regionale dal Presidente dell'Assemblea Michele Paes alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali dei territori interessati dalla devastazione. Nel suo intervento in aula il Presidente Paes ha ricordato ai deputati che l'estate 2021 in Sardegna è stata caratterizzata da terribili incendi e sono testimoni i primi cittadini dei comuni più colpiti molti di loro sono presenti oggi in quest'aula, ha detto Paes. Amministratori disperati che hanno visto in pochi giorni le loro comunità annientate sono oggi qui per far emergere una voce comune facciamo qualcosa subito Un problema è quello degli incendi, ha sottolineato il Presidente Paes che si è sempre intrecciato inevitabilmente col vissuto della nostra isola ma l'immagine dei roghi di quest'estate, il pianto delle persone che hanno visto distrutta la loro casa, la loro attività e il loro futuro il dolore per la morte degli animali uccisi dal fuoco rimarranno indelebili nella memoria di tutti i sardi. Ora è nostro dovere guardare avanti, ha continuato Paes mettere in sicurezza i territori, prevedere adeguati ristori per le comunità colpite dal fuoco e per disporre piani di sicurezza diffusi ai capillari che in caso di emergenza possano salvaguardare qualsiasi parte del territorio regionale. Sono convinto che la collaborazione e la sinergia di tutti i livelli istituzionali e del mondo creditizio e produttivo ha concluso il Presidente Paes sia indispensabile per trovare le soluzioni più idonee a prevenire e sconfiggere una delle piaghe più dolorose per la nostra terra e per contribuire a far risollevare le popolazioni colpite e permetterle nelle condizioni di ricostruire un territorio ricco di potenzialità che chiede di diventare regoglioso e produttivo.